Note positive, sempre legato alla crescita, non tanto l'importanza di far gol, quattro gol fatti con la squadra di Lega Pro non sono pochini e questo è importante, ma la ricerca del gioco è quello che stiamo provando durante la settimana e durante tutto questo ritiro, le risposte sono nettamente positive. È ovvio che non bisogna fermarsi, bisogna crescere, bisogna migliorare ancora tanto sotto tanti aspetti, però vedo che gradualmente la squadra sta crescendo e questo per me è di grande positività. C'è un lavoro costante quotidiano, giocando sempre nella stessa maniera, facendo tutti gli allenamenti legati al 4-3-3, alla ricerca dell'attacco degli spazi, delle sovrapposizioni, devo dire che le risposte sono confortanti. È normale che questi ragazzi, anzi oggi mi aspettavo a livello fisico qualcosina di meno, perché hanno lavorato tantissimo in questi due o tre giorni, in particolar modo ieri abbiamo caricato tanto e me li aspettavo meno brillanti, sono anche contento sotto il punto di vista fisico. Sì, bisogna migliorare, un pochino sulla destra, Gennaro ha fatto un pochino più di fatica fisica nello spostare palla dentro, però è un giocatore che ha grande qualità, grande velocità, con una squadra forse schiacciata come era il Carpi inizialmente, non erano tanto aggressivi in avanti, ha trovato meno spazi, però è un giocatore che crescerà sicuramente. La crescita di Laribi a sinistra, ha fatto delle ottime giocate, poi mi piace parlare tanto del complesso, della squadra che si è mossa in determinata maniera, la difesa che è sempre salita, accorciato, le pressioni anche alte. Poi mi è piaciuto il fatto che noi abbiamo ricercato sempre di giocare dal basso, ovviamente qualche volta sbagliando e concedendo le occasioni anche a loro un paio di volte, specialmente all'inizio, ma per poter crescere e migliorare questi sono i test dove dobbiamo veramente provare a giocare e non aver paura. Sia Pomini che Bresano hanno interpretato il ruolo come piaceva a me, alti, cercando di giocare la palla, ricercando le mezzali quando ci vogliono apprendere. È un po' quello che abbiamo provato anche stamattina e ciò mi piace. Dai, l'attaccante deve fare gol, però di solito, per le mie caratteristiche, di solito quando faccio gol è merito della squadra che si muove bene e mi mette in condizioni di fare gol. L'altro anno ho lavorato bene per propormi qui a Sassuolo, ora tocca lavorare bene per confermarmi e ritagliarmi uno spazio in questa ottima squadra. Si lavora tanto per l'attacco, quindi sono contento, io devo migliorarmi tanto, quindi piano piano con il lavoro si vedranno i risultati. Bel modo per iniziare, buon inizio 2013. È stato un buon test, ci stiamo preparando bene per arrivare al meglio al campionato e stiamo proponendo quello che vuole il mister, facendo gli allenamenti e tutto, quindi stiamo provando delle cose che abbiamo provato qua con il mister. Sono contento e felicissimo che sia rimango qua, sono sereno, tranquillo, poi questo non lo so, dovete parlare con la società. L'anno scorso giocavamo a tre, cambia un po' per noi difensori, le linee da dietro, cioè percorriamo meno chilometri durante la partita, però alla fine ci adeguiamo alle richieste del mister che gioca 4-3-3, quindi per noi non cambia nulla, alla fine ci aiutiamo tutti quanti e basta. Sì, il mister ce lo spiega molto bene, i concetti sono sempre chiari, noi cerchiamo sempre di applicare tutto quello che dice. Poi io ho già giocato con questo modulo, con Zeeman, diciamo che sono un po' più avvantaggiato, ma col mister che spiega così tutti potrebbero imparare. Benissimo, sono contento di essere tornato in forma, diciamo, anche se non del tutto, stiamo lavorando per recuperare la condizione, soprattutto i compagni e il mister mi stanno dando molta fiducia e mi aiutano molto. Sansone ha fatto molto bene, sono contento per lui che è andato a Torino, cerchiamo di dare il massimo a tutti, al di là di che possa essere il nuovo Sansone.